Ora lo chiedo lei la spiegazione. Il nostro governo ha fatto un accordo con il capo di giù per rimandare in Sudan 200 o anche di più di sudanesi che erano in Italia e questo mi è stato detto che è come mandarli alla morte o alla prigione. È vero o no? Cioè per me è una cosa proprio assurda, però voglio dare una conferma. Sì, se c'è ancora qualcuno...